Operazione antidroga a sorpresa per i finanzieri di Padova, quella che avrebbe dovuto essere un'attività rutinaria per la compagnia di S, impegnata nell'apertura di un controllo fiscale nei confronti di un'impresa di Montagnana, si è in breve trasformata in una fruttuosa operazione antidroga. Le fiamme gialle a testine, infatti all'avvio dell'ispezione fiscale, si sono trovate di fronte a due capannoni zeppi di materiale accatastato, macchinari in disuso, otto mezzi dismessi, le attività di ricerca negli immobili finalizzati a reperire documentazione extra contabile che doveva servire per scoprire eventuali evasioni d'imposta hanno portato ad un esito inaspettato, quasi mezzo chilo tra hashish e marijuana. Ad accorgersi della presenza della droga è stato un finanziere che durante l'ispezione ha individuato una borsa sospetta nascosta nella poppa di una piccola imbarcazione a remi stipata all'interno di uno dei due capannoni. Dentro c'erano quattro confezioni di hashish del peso di 100 grammi ciascuna. I militari quindi, coordinati dal pubblico ministero di turno della procura di Rovigo e con il prezioso aiuto del cane antidroga Estor in forza alla compagnia di Padova, hanno passato a scandaglio tutti i magazzini della ditta, rinvenendo e sottoponendo a sequestro altri 100 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, due bilancili elettronici di precisione, nonché numerosi strumenti per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Il titolare della ditta è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pubblico ministero, è stato accompagnato nella sua abitazione per scontare gli arresti domiciliari.